Replay. Alessandro Dallalana. Il professor Loops premette a fondo il pulsante del comando a distanza. Poi chiuse gli occhi e inspirò profondamente. La colse un leggero senso di vertigine, ma aveva pensato bene di straiarsi sul lettino prima di iniziare l'esperimento. Rimase immobile con gli occhi chiusi, in preoccupata attesa. Non notava nulla di particolare, a parte il rimbombo martellante del cuore nel petto, amplificato dal silenzio del suo laboratorio segreto. D'altronde perché mai sarebbe dovuto succedere qualcosa di strano? Quella era soltanto la fase di registrazione. Decise di rimanere straiato ancora per qualche momento e gli venne spontaneo riflettere su ciò che stava facendo. Ebbe la sensazione di averci pensato e ripensato infinite volte prima di allora, ma ritenne di doverlo fare comunque. In quel preciso istante, numerose sarebbero state le applicazioni in cui la sua idea avrebbe potuto trovare impiego, sicuramente alcune di dubbia eticità, se non addirittura illegali. Ma come le recenti tecniche di manipolazione dell'energia gravitazionale non avevano dato origine solo a bombe e distruzione, così la registrazione encefalica avrebbe potuto offrire numerose opportunità benefiche. Riuscire a registrare su un supporto fisico tutte le informazioni di ingresso e in uscita dal cervello umano avrebbe rappresentato una pietra miliare su tutta la storia della tecnologia, della medicina e perché no, della scienza tutta. Era solo una questione di spazio. La quantità di informazioni che poteva essere contenuta nel più avanzato supporto quantico limitava la registrazione a poco più di cinque minuti. Per questo decise di trarsi su a sedere e di non sprecare tempo prezioso in considerazioni che sarebbero potute essere posticipate senza alcun problema. Guardò il timer. Doveva trovarsi un'occupazione per i successivi tre minuti. Non ci pensò sopra due volte e decise che gli rimaneva giusto il tempo per concedersi un caffè. Mentre aspettava la bevanda lo colse una strana sensazione. Senza alcun motivo apparente, prese in mano il cellulare e dopo poco questo segnalò una chiamata. Accidenti! Sua madre aveva avuto da sempre un sesto senso nello scegliere i momenti meno opportuni per farsi sentire. Spinse il telefono e assaporò lentamente il suo caffè. Non era quello il caso di perdersi in chiacchiere. Guardò di nuovo il timer. Trenta secondi. Con passo stanco si diresse verso il lettino e vi si stese sopra. Tre bip prolungati segnarono la fine della registrazione encefalica. Tra poco sarebbe iniziata in automatico la seconda fase dell'esperimento. Il riproduttore quantico avrebbe rinviato al suo cervello ciò che era stato registrato sul supporto sotto forma di impulsi neuronali. Uno strano pensiero sfiorò la mente del professore. Aveva riflettuto a sufficienza sulla possibilità di ritrovarsi in un circolo chiuso. Ma in quel momento vinse la curiosità per il risultato dell'esperimento e attese lì, straiato, per l'ennesima volta. Il professor Loop premette a fondo il pulsante del comando a distanza. Poi chiuse gli occhi e inspirò profondamente. Lo colse un leggero senso di vertigine, ma aveva pensato bene di straiarsi sul lettino prima di iniziare l'esperimento. Rimase immobile con gli occhi chiusi, in preoccupata attesa. Non notava nulla di particolare, a parte il rimbombo martellante del cuore nel petto, amplificato dal silenzio del suo laboratorio segreto. D'altronde perché mai sarebbe dovuto succedere qualcosa di strano? Quella era soltanto la fase di registrazione.